Dei due pareggi della quinta giornata di campionato nella raffa italiana, il più importante è stato quello tenuto da Possaccio Avigasio contro la prima della classe, ancora al comando della graduatoria perché il secondo pareggio di giornata è stato proprio quello della Giorgione Trevillese ottenuto a Roma contro la Flaminio. Sotto di un punto sono i verbanesi del presidente Dario Mazzolini, a meno due i codoniesi della TM88 che hanno battuto e raggiunto la caccialanza, decisivi Cosso e il giovane Lambertini che hanno battuto Savoretti e Marco Luraghi. Però i Lombardi hanno un match da recuperare contro la Flaminio che si gioca il primo aprile e quindi sono potenzialmente in grado di conquistare la vetta. Negli altri scontri, prima vittoria in campionato per Cofer Metal Market ai danni di Nova Inos Mosciano ed ennesima sconfitta di Boville, 2-6 in quel di Nola, casa della faravolo boutique accessori Kennedy. E veniamo a Possaccio. All'intervallo le squadre vanno sul 2-2, Gianluca Formicone e Cristian Andreani fanno pari nell'individuale. Nel secondo set è bastato purtroppo un unico errore per mettere fuori match il verbanese. Anche interna è stato pareggio. Nando Paone nella seconda parte ha ben contribuito al recupero di Possaccio. Nelle sfide di coppia i Veneti si sono trovati a condurre per 4-2 quando Miloro Monaldi e Nanni Formicone hanno battuto 8-1 e 8-7 Signorini Scichitano e Paone Andreani. Ma hanno poi ceduto nel secondo set quando Possaccio ha potuto vincere 8-6 e 8-3 portando a casa il punto. Una rimonta che porta Fieno in cascina non solo sul piano dei punti, come ho detto, ma anche su quello delle convinzioni. Dice il DS Sergio Tosi. Vero che dobbiamo salvarci, ma lasciatrici sognare qualcosa di meglio. Sabato per gli uomini sfida interna contro Kennedy. Nel campionato di A femminile Possaccio ha vinto in Sardegna sempre per 8-2 sia il sabato contro Orristano che la domenica con la bocciofila San Giuseppe. Poi gli hanno rinviato la partenza. In quest'ultimo incontro Barbara Guzzetti ha vinto entrambi i set del tiro di precisione, quindi nell'individuale Martina Ceriani ha concesso il bis e così sul 4-0 è stato possibile volare via con Guzzetti Combi e Guazzoni nel secondo set che hanno portato il team sul 6-0. Nelle ultime sfide Guazzoni e l'altra delle sorelle Ceriani, Eleonora, hanno fatto pari. Morale, sia pure con una gara in più rispetto alle altre, Possaccio è imbattuta e guida con 7 punti la classifica. Sabato il team femminile riposa.